Un'ondata di forte maltempo si è battuta su tutto il territorio nazionale. Il vento fortissimo che dall'ora di pranzo circa è andato ulteriormente intensificandosi sta creando numerosi disagi e criticità da nord a sud. Le previsioni a livello nazionale per oggi prevedevano venti da sud sud est su praticamente tutti i bacini con scirocco molto intenso e raffiche fino a 100-110 km orari sull'Adriatico Alto Ionio e Libeccio Medio Alto Tirreno Ligure. Era dal febbraio del 2015 che una simile tempesta di vento non colpiva l'Italia. Nell'Alto Adriatico eccezionale acqua alta nella laguna di Venezia fino a 160 cm è la quarta più alta di sempre da quando sono incominciati i rilevamenti nel 1923. Nel Medio Adriatico si sono viste onde alte fino a 6 metri e persino superiori e conseguenti mareggiate lungo tutte le coste esposte a sud sud est. A Fano la mareggiata ha mangiato metri e metri di arenile nella zona senza scogliere dell'anfiteatro Rastat. Soltanto in nottata il transito del fronte freddo associato al minimo determinerà una rotazione delle correnti da sud ovest con una parziale attenuazione dell'intensità del vento che continuerà comunque a soffiare moderato o forte anche per la prima parte della giornata di domani martedì. La protezione civile delle marche per il quadrante pesarese ha emesso alle 13 di oggi con validità fino a mezzanotte di domani un bollettino di condizioni meteo avverse con allerta verte e venti di burrasca con raffiche di vento forte fino a 85 km all'ora. Numerosi e continui in tutta la giornata agli interventi delle squadre dei Vigili del Fuoco. Nel Fanese da segnalare nella mattinata due interventi, uno in via Bregata Messina per grossi rami caduti sulla sede stradale e un altro a San Lazzaro per un insegna pericolante di un negozio. Ma gli interventi si sono susseguiti senza soluzione di continuità durante tutta la giornata per le squadre sia di Pesaro che Fano e d'Urbino che sono state impegnate in continuazione per la medesima tipologia di interventi, rami pericolanti e grondai e sradicati dalla furia del vento. Non si segnalano però situazioni di particolare criticità, richiamato a supporto anche personale aggiuntivo.